Super Billy, veloce, comodo, divertente, Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al pompello, bevi nuovo, bevi Billy e pensare che non è gassato. Come vola la mattina, portare la bambina a scuola, fare la spesa e ho ancora tutta la casa da pulire. Ma ho Spic e Span che ti aiuta, perché con Spic e Span fare le pulizie è come far lì e ci vuole poco. Con Spic e Span è così facile pulire, perché al suo contatto lo sparco non resiste, con Spic e Span è subito tutto pulito. E che buon profumo di pino, e ho il tempo di andare a prendere la bambina. Con Spic e Span, chi fa da sé, fa per tre. Essere o non essere, questo è il problema, se sia più dolce. Salatino. Dolce. Salatino. Salatino. No, sfogliattina, questo è il problema. Doré, un nuovo sapore, una nuova bontà della saiva. Signor Green, signor Green, signor Green. Sì? Ha bisogno di aiuto? No. Voglio che sappia che io, io penso, penso che lei è sempre più grande. Sì, davvero. Vuole la mia Coca-Cola? Davvero può berla? No, no. Davvero, dai. Ok. Grazie. Ci vediamo. Ehi, amico. Prendi. Oh, grazie, Gio. Grazie. Prendi. Prendi. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Ecco il mondo di Telesette. Sport vuol dire Telesette. Cinema vuol dire Telesette. Rock'n'Roll vuol dire Telesette. Tv vuol dire Telesette. Telesette. Il mondo ha 300 lire. Telesette. Il mondo in tasca. Telesette te. In fondo la mia vita, sì, è proprio dolce e amare. Però un momento giusto c'è. Però un momento dolce. E poi Kine Martini. Un momento d'oro. E poi Kine Martini. Fantastici questi jeans. Ma questi jeans non sono i miei. Mollolosso, sono miei. Ehi, ma sono proprio identici. La stessa cerniera, lo stesso colore, le stesse cuciture. È vero, questi sono Jock. Ti stanno bene. Quanto li hai pagati? 18.000. Cosa? 5.000 meno dei miei. Ma dove li hai presi? Alla Uppin, piccolo. Jock jeans. Uguali identici ai jeans più venduti nel mondo. Ma a 5.000 lire meno. Jock jeans. In vendita esclusiva alla Uppin. Biondo, come il sole e i mandarini di Sicilia. Forte, per temperamento. Siciliano, per tradizione. Biondo, forte, siciliano. Solato, gran mandarino di Sicilia. Bravo, che cos'è? È il nuovo LP di Lara St. Paul. Bravo, un disco pieno di ritmo, originalità e quello che vorreste sentire in un disco. Bravo a Lara St. Paul per Bravo in tutti i negozi. Bello, che cos'è? Aligiambo, una nuova epoca nella navigazione ad alta velocità. Aligiambo, 250 posti, aria condizionata, bar, telefono, tv con i film di Canale 5. Aligiambo, vola da Anzio a Ponza, da Napoli a Ischia, Capri, alle Isole Olie e record assoluto con il Super Giambo, da Napoli a Palermo via Ustica in meno di 5 ore. Aligiambo, volare sul mare. Super Signal System Super Signal System Rende più vicini i più deboli segnali tv. È il sistema esclusivo dei tv color Seneco. TV Color Seneco Garantiti due anni dalla Zanussi Elettronica. Biondo come il sole e i mandarini di Sicilia Forte per temperamento Siciliano per tradizione Biondo, forte, siciliano Solato, gran mandarino di Sicilia Fra tante cose che ogni giorno possono insidiare la salute dei tuoi denti La pasta dentifricia Carlo Erba è quella che ti protegge efficacemente Perché unisce all'azione antibatterica del cetrimonio quella protettiva del fluoro Con le proprietà aromatiche degli estratti naturali Pasta dentifricia Carlo Erba Da una lunga tradizione di ricerca Ti sembra pulito, vero? Allora guardalo da vicino Ecco l'avversario, le incrostazioni Dove i nemici dell'igiene mettono su casa E senza vederli Li ritrovi sotto il bordo Sulle pareti A filo d'acqua Ma finalmente arriva Sator Sator col suo spruzzatore angolato Scova le incrostazioni anche le più nascoste Sator Con la sua particolare viscosità Aderisce a lungo alle pareti E spazza via le case dei nemici dell'igiene Sator Niente più efficace per l'igiene del water Kis Kis Ben Ben Giuliano Gemma in un film mozzafiato Un agente segreto condannato a morte Accetta l'incarico in una missione ai limiti dell'impossibile Le sorprese e i colpi di scena si susseguiranno fino ad un finale pirotecnico Kis Kis Ben Ben Reduzione dal principio alla fine È per voi su Canale 5 Sono 120 giorni 120 Ottobre On Da Un agente seguirti Da Qu interviews Da Cu O ma Ä Grazie a tutti.